Grazie Presidente, un ringraziamento anche al Direttore Leone per il suo intanto per essere presente qui oggi dopo qualche giorno dalla trasmissione che è oggetto di questa nostra discussione e poi un ringraziamento anche per la sua relazione, certamente una relazione molto accurata, condivisibile, se non fosse che avendo io visto con grande attenzione la trasmissione dedicata ai due familiari Casamonica ho trovato la ricostruzione da lei fatta incongrua con quello che invece ho visto in trasmissione e poi brevemente dirò. Nel suo intervento lei risponde anche ad alcune sollecitazioni contenute in una interrogazione presentata al sottoscritto dal collega Ranucci e anche di questo naturalmente la ringrazio. Voglio partire dalla eco molto grande che ha avuto nella stessa giornata del 20 agosto il funerale di Vittorio Casamonica capo di una famiglia che come è noto è oggetto di indagini reiterate che la considerano tra le più pericolose famiglie della criminalità organizzata a Roma in un contesto in cui la città è certamente, come sappiamo, non solo dalle inchieste ma dai fatti di cronaca sotto un durissimo attacco portato da poteri criminali, malavitosi e anche mafiosi. Quella eco ha significato un sentimento molto largo di offesa da parte della stragrande maggioranza della cittadinanza non solo romana ma italiana. Ecco vorrei soffermare l'attenzione sua e di tutti noi su un fatto, una percezione che certamente non ha rilevanza assoluta né scientifica ma che io invito a prendere in seria considerazione sul fatto cioè che una eco simile si sia in maniera assolutamente autonoma generata la sera in cui, quell'8 settembre, una settimana fa, la trasmissione porta a porta stava andando in onda quando appunto molti cittadini hanno cominciato a dirsi con nettezza offesi da una trasmissione che sembrava loro reiterare in qualche modo quella violazione che c'era stata con il funerale di Vittorio Casamonica in Piazza Don Bosco per avere quel funerale e poi le immagini reiterate e spiegate in trasmissione utilizzato dei simboli che sono propri di quella che è una sottocultura malavitosa, criminale. Questa offesa per una vasta opinione pubblica io penso che abbia indotto e del resto lei vi accennava nella sua relazione ad una puntata riparatoria. Ecco il fatto che ci sia stata una puntata riparatoria penso che già la dica lunga sul passo falso che è stato fatto nel momento in cui è stato pensato di dedicare una puntata di fatto ai soli esponenti di una famiglia presunta criminale e che si presume con qualche legame con la cosiddetta mafia capitale per invece spacchettare il tutto con un'altra trasmissione dedicata invece a coloro che sono rappresentanti dei cittadini o che hanno comunque nel loro curriculum una vicenda legata ad una cultura della legalità e dell'antimafia. c'è naturalmente come lei ha detto con forza il dovere della RAI a dover informare i cittadini questo è un dovere che il senatore Gasparri adesso richiamava facendo anche degli esempi a suo dire controversi io non contesto naturalmente che si debba, anzi si devono fare in modo che personalità controverse sia un oggetto di inchiesta da parte del servizio pubblico io contesto appunto come diceva adesso anche il collega Pisicchio che tutto questo sia avvenuto invece in un format che di fatto contraddice quell'attenzione al rigore, al ritmo serrato, al ritmo incalzante dell'inchiesta che prima invece venivano citati come elementi decisivi o comunque auspicabili sappiamo che il contenuto della trasmissione è travolto in qualche modo dal format stesso della trasmissione e sappiamo che in questi 20 anni il format di Porta a Porta è stato identificato da tutti come il luogo simbolo di un potere riconosciuto il potere politico, il potere di istituzioni molto forti e già questo permette agli ospiti una ostentazione quella che lei chiamava una legittimazione è anche vero che in questi anni la trasmissione si è occupata che nasceva come un talk prettamente politico ha poi virato sempre più sulla cronaca sia nera sia rosa noi abbiamo assistito per come io ho visto con grande attenzione la trasmissione dello scorso 8 settembre più una trasmissione di cronaca rosa che tra virgolette naturalmente che è una trasmissione di cronaca nera perché il tono era un tono comunque che indugiava alla colloquialità al gioco allo scherzo anche in alcuni frangenti alla levità del tono ecco, per tutta la durata della trasmissione nonostante i contrappunti che lei citava dei vari momenti di approfondimento giornalistico fossero indubbiamente serrati ma lo studio nonostante la presenza di due autorevoli giornalisti ecco, aveva un carattere di assoluta levità e del resto mi permetta anche di dire sin dal titolo della trasmissione perché i funerali perché i funerali di Casa Monica insomma, perché fossero stati organizzati in quel modo c'era un tono vagamente giustificatorio l'oggetto della trasmissione è stato appunto chiedere ai familiari di giustificare funerali organizzati in quel modo ecco, chiudo dicendo che il compito che noi abbiamo e che lei naturalmente ha presentissimo che noi abbiamo noi che sediamo in questa commissione noi Parlamento e che ha il servizio pubblico al quale noi richiamiamo con assoluta fermezza il servizio pubblico è quello non solo di contribuire alla crescita civile economica civile e sociale e quindi economica del Paese ma prima ancora quello di costruire una cultura di civismo di legalità molto forte e per fare questo il servizio pubblico così come anche su altri versi il servizio pubblico radio televisivo su altri versi l'istituzione scolastica sono decisive nell'isolare qualunque cosa abbia a che fare con una sottocultura criminale che è assolutamente pervasiva che opera suggestione nei confronti di tantissimi giovani soprattutto dove lo Stato è più debole dove la crisi è più forte dove non c'è lavoro una sottocultura criminale che vive di ostentazione ostentazione di simboli un'ostentazione di simboli che molto spesso induce sottomissione quella che è stata contestata nel aver organizzato in quel modo il funerale induce sottomissione induce omertà nostro compito è far vivere invece appunto una cultura del rispetto della sobrietà dell'attivismo ecco io penso che la trasmissione porta a porta della scorsa settimana sia stato un pesante passo falso anche grave da questo punto di vista nell'aver sottovalutato sottovalutato l'impatto e indugiato anche a questa rappresentazione di sottocultura che invece noi con ogni mezzo dobbiamo debellare e contrastare per questo penso che l'episodio accaduto sia molto grave per il servizio pubblico e certamente da non ripetersi e che l'attenzione che ci vuole deve essere deve essere massima da questo punto di vista grazie per la notte